Avanti la prossima! Buonasera! Ciao! Nome? Jessica Scusi ma qui sulla sua scheda c'è scritto Maria Concetta Bottona Forse Jessica è il nome d'arte? No, è il nome mio Andiamo avanti, età? C'è 7 Come? 8 Scusi ma lei è minorenne? No, innanzitutto volevo chiedere che io non sono minorata ma maggiorata Senta ci racconti cosa sa fare? Allora, innanzitutto sa fare la figa e poi, cioè, so anche fare così Se potessi esprimere tre desideri? Allora, prima di tutto che mi funzioni in digitale terrestre e poi vorrei la sinistra più grande della destra, così Scusi ma anche il terzo? Anche la destra più grande della sinistra, così L'ultimo libro che hai letto? Catalogo dell'Ikea E pure Facebook Cosa ti pensa del premiere? Beh, cioè, se hai un giottone d'oro va benissimo Esperienza al cinema? Allora, con il mio tipo, c'è tipo in ultima fila, c'è le zuzzerie Sì, va bene, andiamo avanti Per mantenere questo film cosa fa? Questo Ah, faccio yogi, faccio bulldog Ha mai avuto malattie? No, 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 ho fatto anche il vaccino per la patente C Poi ho preso l'HIB, ma niente di grave Mi racconti l'esperienza più brutta della sua vita? Fatte questa, ero con la casa del mio tipo a fare la doccia C'era l'acqua gelata e si era tutto il bolide Non lo dimenticano mai Senta, hai mai vinto concorsi di bellezza? Sì, a bugugiate sono arrivata a seconda del concorso Mi sembra scema Lei è favorevole o contraria a matrimoni omosessuali? Passa parola Che rapporto ha con i media? Sempre protetto Bene, senza, viste le sue risposte Crediamo che lei sia perfetta candidata ad entrare ad Arcoli Complimenti Chi? A lei Ho vinto La prossima, grazie No, 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 non ci siamo Ma come ti vesti? Ma nooo Ma nooo Amico